Pace bene, fratelli e sorelle, il Signore è il nostro pastore e Lui ci guida, Lui sa come guidarci nella retta via. Ecco, voglio fare una breve testimonianza riguardo la parola del Signore, il Vangelo. Ho iniziato a leggerlo l'anno scorso, perché sentivo questo forte bisogno. Il mio direttore spirituale mi disse di leggere tre capitoli al giorno e meditarli, invocando prima lo Spirito Santo. Però l'anno scorso, ad agosto, mi sono un po' persa tra il mare e i figli, insomma, un po' come tutti. Anche perché il cammino di conversione non è un punto di arrivo, ma di partenza. È come una scala e quindi a ogni gradino è un cammino, uno sforzo, può essere un momento di fatica, come può essere quel giorno che riusciamo a fare le scale con più facilità, ma c'è anche quel giorno che possiamo inciampare. E l'importante è ricominciare, ecco. Perché il Signore è sempre pronto ad aspettarci, ad abbraccia aperte, con la pazienza di un Padre buono. Ecco, e quindi l'anno scorso, come dicevo, agosto, non ho letto il Vangelo, ho mancato, ecco, a questa richiesta. E soprattutto ho disubbidito, se vogliamo. Quindi, come vedete, nessuno è perfetto. Però poi, ritrovandomi un po' da sola a settembre, nel silenzio, mi sono resa conto di aver mancato il Signore. E quindi ho chiesto perdono. Ho detto, ricomincerò a leggere il Vangelo, tre capitoli al giorno. Ma Gesù ha detto, anziché tre capitoli al giorno, sei capitoli al giorno per un mese, per ricoperare il mese di agosto. E poi ricomincerai a leggere tre capitoli al giorno. Così ho fatto. E poi, siccome sono arrivata agli Atti degli Apostoli, e quindi sto leggendo San Paolo, che io, uno degli Apostoli, non so, quello che lui dice, quello che lui scrive, veramente lo sento nel mio cuore, nella mia pelle. Ho pensato, ma guardo un po', sono arrivata quasi alla fine. Ho detto, Gesù, ma adesso che finisco di leggere il Vangelo, ho finito. Ha detto, no. Continuerai a leggere tre capitoli per la tua vita, insomma, per tutta la vita. Ha detto, solo che sceglierai tu cosa leggere. Adesso devi seguire comunque un ordine. Ecco, l'ordine. Questo ordine che comunque ha un senso. La Bibbia va tutta letta e va tutta meditata, ma con discernimento. C'è una parte del Vecchio Testamento che è difficile un po' da digerire perché non riusciamo a comprendere. Ma uno deve discernere con l'aiuto dello Spirito Santo in base al contesto in cui vivevano. E quindi è io quello che posso dire fino adesso, la mia testimonianza, che è meraviglioso. Come Dio ha guidato il suo popolo, che siamo noi, i suoi figli. E questo è meraviglioso. E con l'avvenuta di Gesù cosa ci ha lasciato? L'amore. L'amore nel cuore. L'amore verso il prossimo. Guardate un po'. Che cos'è l'amore? L'amore per il prossimo è la carità. Quindi la carità riassunto nella legge. Nella legge di Dio. Non siate debitori di nulla nessuno. Se non nell'amore vicendevole per chi chiama l'altro. Adempito la legge. Adempiuto la legge. Infatti non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai e qualsiasi altro comandamento. Se ricapitola in questa parola. Amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge infatti è la carità. Che cosa anche nel messaggio di ieri di Gesù ha parlato dell'amore, no? Di venerdì il messaggio che ha dato venerdì ha parlato dell'amore. Senza l'amore non c'è unione. Ecco perché chi ama non desidera tradire il prossimo o fare del male. Ma camminare in verità e in giustizia con lo Spirito Santo di Dio che ci lascia liberi di scegliere il bene o il male. Che Dio vi benedica. E come ha detto Gesù a me, io lo dico a voi. Quando avete qualche dubbio, qualche incertezza, volete una risposta, una consolazione. Ecco, nutritevi della parola di Dio e del corpo eucaristico.